Ormai sono passati quasi tre anni dal giorno in cui Montesilvano fu sconvolta dall'operazione ciclone che spazzò via l'allora giunta comunale con il clamoroso arresto del sindaco Enzo Cantagallo. Dopo tanto tempo e in attesa di un processo che ancora stenta a decollare e che dovrebbe avviarsi comunque nel prossimo autunno, l'ex primo cittadino torna a parlare e lo fa attraverso TV6 con una lunga intervista che andrà in onda questa sera alle ore 20 e 45, una chiacchierata in cui Cantagallo ha risposto alle domande del nostro Carmine Perantuono parlando di ciò che è stato, di come vive ora e ovviamente di Montesilvano. Tanti gli spunti interessanti come quello relativo al periodo trascorso in carcere. Io penso che qualcuno abbia fatto tanto del male per far sì che Cantagallo addirittura sparisse, non soltanto dalla città di Montesilvano, sparisse proprio dalla terra. Nel senso che una persona che viene chiusa il giorno dopo una manifestazione con tanto di fascia, viene chiusa alle 11 di mattina dentro un carcere, se questa persona si toglie la vita non fa niente di straordinario di speciale, succede un fatto talmente drammatico, talmente grave. Io penso, io penso, io penso che qualcuno abbia pensato. Io ho avuto la forza di non farlo per la mia famiglia, per i miei figli. Sono contento di questo perché quelli sono stati momenti drammatici, sono riuscito a superarli. Ho una grande forza per fare questo processo e io mi auguro che il processo dica a chiari lettere chi nel ciclone erano le persone serie e chi erano i delinquenti. Questo. Io oggi vivo per questo. Appuntamento dunque a questa sera alle 20.45 per seguire l'intervista integrale di Enzo Cantagallo, naturalmente su TV6.